Salve a tutti! Rieccoci qui alla fine del quinto mondo, iniziamo il sesto e vediamo subito che roccioso, caramelloso, nonché minieroso, non basta, ok, fortezza, doppia fortezza, e castello, con tanto di bosso fraccesco, e diciamo che raffinato, no, io ero proprio fraccio, va bene, rupi degli storzini, non facciamo tutto il video griglioso, no, per l'amor di dio, mi sono già nauseato, tanto te non sorbiere, non cagare il cazzo, oh yashii, mamma mia, io me li magno, eh, questi, magnaveli, me li pappo, aspetta che ce l'ha, bravo yoshi, oddio, ho fatto una cosa figa, cosa è successo, occhio eh, hai un proiettile ghiacciato, che hai usato bene, coprita, guarda che me lo pappo io, cerchiamo di papparli un po' tutti, perché, più ne pappiamo ora, e meno ci infastidiranno, sì, sì, in effetti, la so, bo, sì, beh, io ci andrei un attimo, io prendo questo, ecco, caga cosa? Caga un bel fiore, te lo sei meritato, non si rifiuta mai, per lo sforzo, uh, queste, queste bisogna farle andare avanti un po' alla volta, no, mi andava bene che fosse fermo qui, ecco, lascia la ferma, ok, no, 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 ma tutte le, scusa, aspetta, se tutte le robe escono, da un uovo qua, eh, non, eh, non tutte le robe, semplicemente se non avessimo già avuto Yoshi, in quel momento avremmo, ne avremmo guadagnato un altro, eh, ok, qua ci sarà andare per sotto, credo, sì, però vaffanculo, sì, non vado a rischiarmi, non si può, oh, no, non devi far così, sai, devi mangiare il proiettile, e poi mangiarlo, non devo mangiarmelo, però, sì, puoi spararlo a quelle piante là, ecco, così hai ucciso sia quelle sopra che quelle sotto, ma è che non so, non vedo che la c'è sotto, arrivo allora, non so, Dio no, si può fare lo stesso, sì, forse, in due si può, però non vorrei, bravissimo, ma sei un eroe, bastava agitare il telecomando, ecco, adesso siamo cagati, non ci avrebbe fatto proprio schifo, eh, vai avanti, ti prego, vai avanti, non riuscivo, va bene, va bene, va magari, magari, non siamo ancora alla fine, o forse sì, sì, che vuoi fa, non so, no, poterlo metterlo più lontano, e boh, ma quegli oschi, arrivare, ah, è vero, questo livello era pensato per Rioshi, è che l'abbiamo perso così presto che me ne ero già scordato, e boh, tanto una vita in più, una vita in meno, in questo gioco non mancano le vite, non è un gioco facile, per l'amor di dio, però, non ti punisce troppo, diciamo, quando perdi, oh, pesci, fisci, aspetta che lassù, mi sento in colpa a non andarci, dai, prendi airfungo, non ho trovato nulla, magari qualcosa anche c'è, oddio, questi sono, sono terribili, c'è bitcato due voli, questi si possono uccidere, ma il problema è che ritorneranno sempre, o più che... no, ecco cercavo il fungo aspetta wow stava per essere un bello scherzetto stai venendo da starnotire per ciò che avviso in casa più che altro io prenderò un infarto è andato via allora cerca di non... eh ma dio, ma santo cielo devo saltarti hai tutto il mondo per saltare e devi saltare sul mio se non ti giravi era perfetto oddio io me ne spetterei qua in alto oddio questa sensazione di starnuto è bruttissima aspetta, aspetta cerchiamo di andare insieme rimarremo qua a Beatrice si diventeremo vecchi se mi imbalia delle correnti come male sto pesce non ho preso ho mancato clamorosamente io lo prenderei lo stesso la bandierina lo fai il bastardo e beh ma... non ho mancato wow mannambra per un millesimo di secondo non so c'è la collone sopra godiamoci questi attimi fino a che non viene il prossimo pesce ci vuoi fare adesso ecco molto qua ci serviva un tartarughino c'era abbiamo uccisi due prima prima quando? oh grazie mi aveva messo alle strette la moneta è lì dai ricordatevi di prendere una tartaruga con voi forse ci si potrebbe anche andare eh ma dopo comunque ti incontri cosi hai già visto eh non puoi andare l'avevo preso dai eh che male mi ha fatto i bastardi nooo vabbè dai cerchiamo di andare avanti che non ne posso già più di lui no no in effetti lui è tutta la sua ne sono personale qui sotto il nostro no c oddio andiamocene a prendere questo bustaccio wow e tra l'altro dieci vite abbiamo dei disleyman d'ora in poi mi dovrai lasciar raccogliere qualcosa neanche per idea attento stai per farti un nemico ce l'ho già un nemico ti incazzi sempre un nemico lo so però potrei incazzarmi ancora di più premi un tasto se qua oltre alla difficoltà dei livelli c'è questa difficoltà di dover ah è un tasto quello minchiai scusami comunque siamo qui alla prima fortezza prima di non sappiamo quante prendere ho due due fortezze e un castello si è vero però precisissimo si oddio ma ma hai visto? non fai niente questo no ma più che oh l'ho visto ecco non si possono uccidere in confesso loro possono uccidere da te e senza nessuna fatica santo cielo vai vai no oddio lo prendo io e ormai si riesco si ma grazie ma non mettermi fretta ti prego non ne ho bisogno ma io sto tre ore la c'è qualcosa per te sai l'ho capito stavo tre ore a saltare eh ci c'è alla prossima non c'è non c'è niente non c'è niente spazio sprecato io amo oddio prendi prendi me eh c c c aspetta aspettami iiii quale volevo fare bene no non bene in testa mamma mia questo livello è smervante cavolo non si sta tranquilli non si è cavolo veramente pensi di essere in un posto sicuro e tac ti piove in testa uno di questi c'è un osso vabbè vabbè però non va ho anche rischiato di perderlo subito si ho visto era un salto un po' corto boh e poi boh un dente a quelle cose ci vorrei far notare quante monete stelle che abbiamo preso oddio ma neanche viste beh una era sicuramente in quella roba pure voi adesso oh oh ci calgerà in testa si boh boh andate ad osso eh si plana ti vede devi fare il number ah 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 fale finta no boh io sono piccolino se farò qualcosa di strano Ma Dio saluto Ma Dio saluto Ci siamo beccati tra di noi E poi è morto lui Quindi va bene Finchè non moriamo noi va bene Va bene andiamo avanti Quanti minchia i livelli Mamma mia Questi mondi diventano sempre più grandi Cosa c'ha scritto dai? Non ho capito ma I nomi non ispirati Che non siano questi Categnaccio Categnaccio cattivo Mamma mia Farebbe comodo anche a me quella Eh c'è un tubo C'è un tuba Io sono indietro eh Boh stai lì Lo posso fare solo io? Aspettami Quale prendo? Eh io non posso fare niente Quale? Eh non lo so Wow record di salti Non voluti Quale? Vai a caso dai Non è che posso dirti io qua Tieni premuto Ecco Boh però Ops Cosa è successo? Non so fammi Levati Anche se la prende Anche se ho sbagliato parte Anche se ho sbagliato parte Sì ma tanto Poi è scarito un nemico Nooo Sei piccolo? No 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 Ok andiamo Non so Sono fuori forma Non riesco a mantenere le cose Quando le trovo Grazie Chissà come si prendeva E' buono Sparcavi anche quell'altro Basta sto coso qua Boh ma io vorrei Tu uccidi Ci siamo tre Beh Dovevamo un po' rifarci da quella di prima Di Pellucci è quante il lavoro Muori Ficca Vita meritata Quanto dura questa discesa? Siamo qua dal 2011 Infinito Cazzo come si fa? Ok Sbava Sì Abbiamo preso il fermento Mi sa eh Sì sì Con la calma Sì beh Basta arrivare dai D'altra volta Sì Sì Non pubblicherò mai niente Un Yoshino? Sì Avrei preferito Quasi quasi quello rosa in questi livelli Oddio No ma abbiamo il costume E qua ci sono questi blocchi che si illuminano quando vogliono Quando vogliono Sì 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 Che è? Tipo scaletta per elicotteri Sì 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 Basta Dovevi sparare tu Non il gioco Nooo Non ha sparato Non ho scato Un giusto un gatto Buru 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 Io Tu dubbo Vai 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 Dubbo Eh Andrei io dai Vai vai Sarebbe stato Voglio ucciderla Ok ma Difficile Dicevo Farlo senza morire Sì In effetti Se avessi dovuto farli da soli Questi video Probabilmente Sarei già finito in manicomio Ma c'è il tuo buon amico Yura Meno male Ti fa incazzare ancora di più Sì ma mi dai qualcuno con cui incazzarmi Sennò mi dovrei incazzare per forza con me stesso E Abbiamo tuttestato in moda Ecco ecco Ci sta niente Ci sta niente Siamo Che luce fu Più veloce possibile Boh bomba Boh bomba Lo pre Comunque c'è un altro lì Di punto da interrogativo E' schissa no? C'è una bomba C'è una bomba Sì ma ne escono in continuazione Sì non si va di la missione Ah o meglio per sopra sì Scusa 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 Non so che vorresti andare E' che pane Mi schiazzo Mi schiazzo No C'era un 6 Scusa Utile Tutti i tuoi Ecco mio dio Senti prendi la stella che dopo io entro Dio santo queste bombombe Sì Siamo tre Sì E lì Ah ok lì era dove uscire Mamma mia ragazzi Questa era d'alta scuola proprio Migrato con poco Sì Sì